Ciao ragazzi di nuovo insieme, oggi andiamo a vedere la differenza tra il cosiddetto working in due e in quattro, ovvero due tipi di accompagnamento che in genere vanno diciamo di pari passo con quello che fa il batterista, quindi l'altra parte ritmica dell'accompagnamento. Non sempre se il batterista va in quattro, allora siamo obbligati a suonare il quattro o viceversa, però a grandi linee l'idea di fondo è quella di, innanzitutto buona cosa è ascoltare sempre cosa fa la batteria, e lo stesso per i batteristi ascoltare noi, e appunto buona cosa è, diciamo, più delle volte incastrarsi alla medio in entrambi gli strumenti, insomma. Oggi voglio cambiare anche sequenza armonica, che sono blues jazz molto semplice in fa, che ha qualche variazione rispetto al classico giro blues di 12 battute, ma niente di che, quindi andiamo a vedere velocemente com'è formato. Abbiamo due battute iniziali con due accordi diversi, quindi già questa è una variazione rispetto al blues semplice. abbiamo l'accordo del primo grado sulla prima battuta, in questo caso fa settima, seconda battuta subito il quinto, il quarto, scusate, settima. Di nuovo fa settima, quindi due battute sul primo, due sul primo, due sul quarto, due sul primo, e qui vado sul secondo minore, qui dicendo due, quinto, quindi sol minore, do settima, che mi ributta sul primo e poi c'è un turn around, arrivato al fa, re settima, sol minore, do settima, fa. Questo turn around classico, ma ce ne sono in infinità, quindi oggi ho scelto questa sequenza armonica, ma si può ovviamente sbizzarbirci. Quindi andiamo a sentire come suona questa base, e ascoltate la batteria, e di conseguenza un working semplice in due e in quattro, quando cambia appunto l'accompagnamento della batteria. stiamo in due. Quattro. 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 Come avete visto faccio anche delle variazioni ritmiche, ad esempio un classico dell'accompagnamento in walking e l'inserimento delle terzine di ottavi. Non mi fermo in questa video lezione sulla differenza tra suonare swing e non swing che c'è tutto scritto, comunque gli esempi se ne entrano un milione, vi consiglio l'ascolto più che altro nell'andamento swing, quindi i brani jazz ascoltate il più possibile. Ovviamente quando si parla di swing racchiuderlo con una frase è limitativo lo swing, forse che un andamento, un senso del ritmo, un'idea della musica particolare. Quindi a grandi linee se suonano l'ottavi in swing. Questi sono i quarti. come? Come? Puve? Come? 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 E JJ ancora... Oltavo nun malhi, se. Utilizzo appunto l'inserimento delle terzine molto comune nel walking, facciamo qualche esempio. Quindi terzine di ottavi o di quarti, andiamo sempre con questa progressione. Grazie. Grazie a tutti. 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 Questa lezione è tutto e ci vediamo al prossimo video.